Ciao amici, oggi parlo dalla specola, cari amici, oggi vi parlo dalla specola. La trasformazione è in progresso, prima la descrizione e poi la visita. L'incremento delle eruzioni vulcaniche e dei terremoti è l'effetto dell'influsso gravitazionale del pianeta Nibiru. L'incremento delle eruzioni vulcaniche e dei terremoti è dovuto all'effetto dell'influsso gravitazionale del pianeta Nibiru. L'incremento delle eruzioni vulcaniche e dei terremoti. L'incremento delle eruzioni vulcaniche e dei terremoti. Il mondo è in trasformazione, una nuova era è proclamata. L'incremento delle eruzioni vulcaniche e dei terremoti. Nostri fratelli e amici, le creature extraterrestri, arrivano dal pianeta Nibiru sulla Terra. È una promessa. Gennaro Gelmini, 4, 6, 7 giugno 2015. Abbiamo Hilfe, Morsi inglese indigenous alla Terra nel verda Nibiru. беллав sull'influssoUP. È aperto per le visite. È aperto per le sundate e da un sorta. La mia tecnica è decisissima fa dei cappi che sta bomba che inizia fine. è aperto per le visite. Abbiamouito quanto sia fatto la porta команde. però si sta bene qua arrivederci amici alla prossima a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.